... ... ... ... Vieni, dammi la grava. Vieni, dammi la grava... Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni... 10 secondi. Oh, questo è il giocatore. Oh, no. F***, no! How come? I'm shit at the game, oh my god, I'm so hate yeah I'm shit at my I'm so hate I'm so hurt Non so che l'attacco Una parte di fronte d'aria Non so che l'attacco 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 V working inienda Non so che l'attacco Non so che l'attacco La strada Alla strada Sì. Sì! Sì! And we're leaving in torche. So for all, go ahead, you choked your ears? One door, one door. Who choked their ears? Who choked their ears? Come on tell me, who choked their ears? Come on tell me, who choked their ears? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.